Mario, da lui vieni? io sono il precioso Mario al quattro a semina oh al quattro Mario cosa fai nella vita? l'operaio, bravo! come voi la tua idea? anch'io, bella dentro bella dentro, tutti romanticori tutti romanticori però la prima domanda che mi fanno quando arrivano sono belle le donne stasera è ora che così mi chiedete va bene così va bene, vai tranquillo allora numero 176 176 ragazzi, chi è? ma guarda quanti uomini cambiano 176, chi è? ehi! dove è? dove è questo uomo? eccolo qua ciao come ti diamo? Alessandro Alessandro da dove vieni?